Buongiorno e ben Ben ritrovati con la puntata di mattino 6 di questo lunedì 22 agosto 2016 Siamo reduci noi di TV6 insieme a tutti voi dalla diretta di ieri sera Abbiamo seguito l'andamento della prima giornata del massimo campionato di Serie A Con il debutto del Pescara una grande partita quella della squadra di Oddo Che ha messo paura al Napoli è finita 2-2 allo stadio Adriatico Cornacchia Vi abbiamo proposto dopo partita le dichiarazioni dei protagonisti, dei giocatori, del presidente Sebastiani Del tecnico Massimo Oddo Vi abbiamo tenuto compagnia fino a poco prima della mezzanotte Ora l'appuntamento è a domenica prossima a Reggio Emilia per la gara tra Sassuolo e Pescara Chiaramente vedremo quelle che sono le reazioni dei giornali Attraverso sia le pagine nazionali sia quelle locali Con grande spazio come tutti i lunedì sullo sport Adesso possiamo iniziare con la rassegna stampa Attraverso le prime pagine delle testate nazionali Partendo dalla prima pagina della Repubblica Che titola così Non so se forse c'è qualche problema Ecco qui ci siamo Allora possiamo andare Un vertice a tre L'Europa post Brexit è da rifondare Merkel-Ollanda è il premier sull'isola simbolo Ovvero ventotene Quattro dossier è una certezza Andiamo avanti E poi chiaramente grande spazio sui quotidiani nazionali sportivi E non sull'ultimi eventi delle Olimpiadi di Rio Che hanno chiuso i battenti Rio è dolce, peccato per il volley L'Italia resta fra le grandi potenze E c'è questa foto significativa L'abbraccio tra il CT Blengini e lo zar Ivan Zaitsev Probabilmente il migliore tra gli azzurri in queste Olimpiadi Ieri sconfitta in 3-7 Tutti tirati, tutti combattuti Ma tutti vinti dal Brasile padrone di casa Poi ancora di spalla Il reportage della guerra turca Dove nemici e alleati si confondono L'Isis usa un ragazzino kamikaze Oltre 50 morti Andiamo avanti Renzi in basso Gomorra in America Si candida a serie cult Torna dunque la scuola italiana E poi il film argentino Il clan La banalità del male Ai tempi dei generali Vediamo ora la prima pagina Del Corriere della Sera Renzi Il referendum comunque vada Si voterà nel 2018 A ventotene Per il rilancio dal basso Dell'Unione Europea Questa è una foto un po' più festosa Ma che riguarda sempre La nazionale del volley a Rio L'Italia olimpica a testa alta Addio a Rio 2016 Con 28 medaglie Poi c'è l'editoriale di Sabino Cassese Il Medio Oriente Le minacce degli stati falliti In Taglio Medio Strage alle nozze In Turchia Un kamikaze di 12-14 anni Le vittime sono 51 Erdogan accusa l'Isis E poi ancora in basso Il capitano ultimo Ora a destra le aquile L'uomo che cattorò Riina Allevare Rapaci Mi ha guarito Ispirato dagli amici Apash Avanti ancora Con il fatto quotidiano Il titolo di apertura Renzi Non si dimette più La ritirata Fino ieri diceva Se vince il no Lascio E non ci saranno Altri governi Sotto la testata Turchia Alla strage del kamikaze Bambino Oltre 50 morti Alle nozze kurde L'opposizione Nel mirino Ma Erdogan Accusa All'Isis Rio 2016 Olimpiadi Bilancio attivo Ci hanno salvati Le pallottole Solo argento Alla pallavolo Maschile Poi Storia di copertina Viaggio Nei ghetti Del sud Nei campi E la solita estate Da schiavi L'agricoltura Si basa ancora Su braccianti Pagati Pochi spicci E lasciate vivere Tra porcili E baracche E la legge Approvata Al senato Non basta Poi abbiamo Dei richiami Veli e Burchini 89 La Francia Infrantumi Per il Fulale Poi Calcio e affari Pisa ostaggio Dell'editore Ai domiciliari Avanti ancora Con la stampa Renzi Si andrà al voto Tra due anni Anche se vince Il no al referendum Il messaggio del premio Era Mattarella E Draghi Nessuna instabilità E oggi a Ventotene Il vertice Con Merkel E Hollande Dobbiamo Rilanciare L'Europa Dal basso E poi la fotonotizia Il bimbo kamikaze Fa strage Di ragazzi L'attentato Alla festa di nozze In Turchia 51 morti Erdogan accusa E' stato l'ISIS Poi lo sport O meglio Non lo sport E' in basso Ma qui abbiamo di spalla L'euro Stata a causa Delle poche nascite Nel 2050 Senza immigrati Saremo 10 milioni In meno E poi ancora Ecco lo sport In basso Finale Amaro L'Italia si consola Con le medaglie Nell'ultimo giorno Dei giochi La pallavolo Perde loro Col Brasile Ma il bilancio E' positivo Ancora Con libero Renzi Avvenenato Dall'euro La flessibilità Sui conti Non basta Oggi il premier Incontra la Merkel Hollanda A ventotene Per chiedere altri soldi E tirare avanti In 14 anni Però le abbiamo provate Tutte in vano L'unica richiesta da fare E' abbandonare La moneta unica Come sostengono I Nobel E poi L'editoriale di Mario Giordano Il kamikaze bambino Fa più paura Di quelli grandi E poi questa Vignetta al centro Il governo Sponsorizza Chi insulta Salvini E poi ancora In basso Libero l'indiano Che rapì una bimba Grazie a leggi Che fanno vomitare Orlando Manda gli ispettori Alla procura Di Ragusa Il secolo XIX Renzi al voto Nel 2018 Che vinca il sì o il no Messaggio sulla stabilità Draghi e Alcolle Oggi il vertice Con Merkel e Hollande Rilanciamo L'Unione Europea Poi altri titoli Sempre sul kamikaze Come abbiamo visto Chiaramente Di spalla anche Lo sport L'Italia salutario Con impianti finali E qui ci sono Due richiami Sulle due squadre Genovesi Ovviamente Sul secolo XIX Genoa da brividi Rischia il capo Poi si scatena Magia di Muriel E la Sampe Spugna Empoli Poi ancora La gazzetta del mezzogiorno Renzi Si voterà Nel 2018 Chiudiamo La fase Dei quotidiani nazionali Con la prima pagina Del messaggero Versione nazionale Comunque Vada Voto Nel 2018 Renzi Dopo il referendum La legislatura Andrà avanti La democrazia Non è sotto assedio Oggi Vertice a ventotene Con Merkel e Hollande Il premier Rilancieremo Dal basso L'Europa Poi sotto La testata Per la Lazio Un poker E troppi errori Con l'Atalanta Vince 4 a 3 E poi La fotonotizia Anche in questo caso Con gli azzurri Del volley Il sogno Si ferma All'argento Dalla lotta Altro bronzo Per gli azzurri Zaitsev e compagni Si arrendono al Brasile Nell'ultima giornata Dei giochi L'editoriale di Marco Gervasoni All'Unione Europea Serve concretezza Più che utopie Poi in taglio medio Kamikaze e bambino Fa strage in Turchia Ha una festa di nozze E infine in basso Rapisce un bebè Arresto negato Orlando indaga Sul PM di Ragusa Un indiano liberato Due volte Passiamo ora Ai quotidiani locali Andando a vedere Le quattro edizioni Del centro Le quattro prime pagine Iniziamo dall'edizione Aquilana Morto per ricovero Negato Si indaga Respinto da sette ospedali Abruzzesi Con infarto La procura Cerca i colpevoli E poi C'è l'intervento Del Presidente della Regione Luciano D'Alfonso Per l'acqua Chiederemo Il commissario E poi al centro La fotonotizia La Sagra L'asina Peppa E la più La più veloce Di Navelli Il paglio Va al rione Ru Ponte E poi Di spalla I richiami All'Aquila Centro storico Telecamere per la sicurezza Dei negozianti A Sulmona Il re Delle terme La maxi E' tutto legale Per lo sport L'Aquila Passa in coppa E trova L'Avezzano Trattore sulla folla La festa Ubriaco Semina il panico E ferisce Carabiniere Denunciato Tutto questo A D'Avezzano Andiamo ora All'edizione Di Chieti Senza L'acqua In casa Da cinque giorni Vasto Emergenza idrica Per centinaia Di famiglie Sasi Sotto Accusa E poi Ortona Paura La notte Bianca In due Ricoverati All'ospedale La croce rossa Soccorre Giovani Ubriachi I richiami A Chieti Cimitero Chiuso la domenica Fino a Settembre E poi A Lanciano Il giallo Sulla costa Pesci morti Per gli scarichi Industriali A Vasto Spavento O meglio Più che a Vasto A San Salvo Spavento A San Salvo Si ringa per terra Sul lungomare Bimbo Si punge E poi Autovelox Di notte Sull'asse Sette giorni Di controlli Serrati Dopo la morte Dell'ex consigliere Prima pagina Di Teramo Trenta letti Per gli anziani Malati In costruzione Centro collegato All'ospedale Per pazienti Sub acuti E poi La fotonotizia Giuliano Valido La serata dello shopping Anni 50 È un flop Poca gente E affari In calo Richiami Di cronaca Martinsicuro Crisi A 13 mesi Notte In osservazione E poi Di messa E ora Abbiamo La prima pagina Dell'edizione Di Pescara Che Dà il titolo Di apertura Alla partita Di ieri sera Dello stadio Dello stadio Adriatico Cornacchia Il Pescara Mette paura Al Napoli Avanti con Benali e Caprari Poi Mertens Firma il 2 a 2 Mercato Arriva Simone Pepe La foto Al centro Della pagina È proprio dedicata Alla partita Di ieri E lo scatto Del primo gol Della partita Quello di Benali Poi I richiami di cronaca A Pescara Dezio Chiede 100 mila euro Al comune A Montesilvano Ruba per fame E prende A pugni Un vigilantes Poi ancora Cantiere contestato Progetto case Sulla rivera sud Ora È scontro Poi Baker use Posti a rischio L'azienda Di Villanova Pronta A licenziare 98 Dipendenti All'interno Del centro Pagina 7 Pagina dell'Abruzzo Ambiente E politica Parchi Storie Opposte Sui monti E uno show Sulla costa Non esiste Il PNALM Calamita turisti E vede Aumentare La famiglia di Orsi Per l'Oasi Teatina Dopo 14 anni Manca invece Solo la firma Di Renzi E poi ancora Ryanair Calpestate Le regole Per favorirla L'Aiuto E gli altri Del Movimento 5 Stelle Denunciano Questa situazione Appunto Circa la vicenda Sulla compagnia Locost Che ha deciso Di restare All'aeroporto Di Pescara In basso Dibattito A Pesco Costanzo Sulla Costituzione Referendum La Chiavaroli Lo sponsorizza Legnini Invita A studiarlo Avanti ancora Con le pagine Di Pescara E Provincia Le pagine Della cronaca Come abbiamo visto In prima pagina Dezio Chiede 100 mila euro Al comune Il dirigente Presente il conto Delle spese legali Sostenute In sette anni Di procedimenti penali Conclusi Con l'assoluzione E poi ancora In taglio medio Due mesi fa Dogali Ottenne 12 mila euro L'ex consigliere Udc E' stato il primo A presentare La richiesta E a farsi Pagare Le spese Dal lente Poi La vertenza Baker Hughes Licenzia 98 Dipendenti Rischiano L'azienda Del settore Petrolifero Di Villanova Interrompe La gassa integrazione Ora i sindacati Sperano Nell'intervento Della regione Oggi Intanto C'è Lo sciopero E si parla anche Di settori in crisi Gli altri colossi Hanno già Tagliato Posti di lavoro Poi in taglio medio Museo delle Genti Due mostre Per il rilancio Negli spazi di Pescara Vecchia Un'esposizione di fotografie E cento opere Realizzate Da quindici artisti E poi ancora in basso Il PD Vogliamo che L'ACA sia efficiente Il segretario Di Pietrantonio Replica Alle polemiche Avanti Ancora Case Sulla Riviera Sud Scontro Sui permessi Per Pescara Porto Pronta la delibera Sui contributi Per i cambi di destinazione Antonelli Di Forza Italia Il comune Non farà pagare La società Di Milia Avanti ancora Ruba Il cibo Per fame Aggredisce Il vigilante Su un trentenne Di origine Senegalese Arrestato dai carabinieri Dopo il colpo All'Eurospin Di Montesilvano Ha nascosto La merce Sotto gli indumenti Poi a Francavilla Eletta Miss Trans Cristina Ambrosio E la vincitrice In taglio medio Via alle domande Per lo scuolabus A Francavilla C'è tempo Fino al 9 settembre Si pagano Da 18 A 47 Euro Al mese Pagina Ora Di Chieti Dopo l'incidente Mortale Sull'asse C'è l'autovelox Anche di notte Da oggi Fino a sabato I controlli Della polizia Sulla superstrada Chieti-Pescara E in altre tre Strade Pericolose E poi In basso Da cinque giorni Sono senza L'acqua In casa Abbasto Di saggi Per centinaia Di famiglie Malgrado la riparazione Della condotta Sotto accusa C'è la Sasi Poi ancora All'Aquila Nella pagina Dell'Aquila Si parla Del caso Di Mala sanità Che è stato Portato alla luce Nei giorni scorsi Morto per ricovero Negato C'è l'inchiesta La procura si muove Dopo la denuncia Dei familiari Del pensionato Di Prato Il centrodestra Critica I tagli In Abruzzo E poi Telecamere Per la sicurezza In centro L'Aquila La Confcommercio Invita gli esercenti A chiedere i contributi Per la videosorveglianza E poi questo fatto Particolare Avvenuto da Vezzano Trattore Tra la folla Paura alla festa Ubriaco denunciato Ferito il carabiniere Che cerca di fermarlo E poi Pagina di Teramo Nasce un centro Per curare gli anziani Nuova struttura In Contrada Casalena A Teramo La ASD Sta costruendo Una RSA Collegata all'ospedale Ospiterà i pazienti Non più acuti Ma che hanno bisogno Di assistenza Il dirigente profeta Avrà 30 posti E servirà a prolungare Le terapie Che non si possono più fare In reparto Tornati a casa I malati Saranno Assistiti Con l'Adi E poi In basso A Martinsicuro Auto investe Una bambina Sul passeggino La piccola di un anno Riporta una contusione Alla fronte E passa La notte In ospedale Lasciamo Le pagine Del centro Andiamo con Il messaggero Alla fine Del messaggero Abruzzo Poi faremo Il collegamento Con Giovanni De Palma Di Abruzzo Meteo Per un Update Come si dice Per tutti gli aggiornamenti Appunto Sul fronte Meteo Per le prossime ore Il titolo Di apertura Del messaggero Abruzzo Ti ammazzo Come un cane A Pescara Altro agguato Sulla riviera Due ragazzi aggrediti Nel buio Senza motivo Lui preso Appugni Mascella Fratturata Lei Trascinata Per i capelli E schiaffeggiata Sotto la testata Quest'altro titolo Pescara L'esordio Da sogno Spaventa il Napoli Benalia Caprari Nel primo tempo Poi Mertens Doppietta Altri argomenti Legati al calcio Lega Pro Ultimatum Del Terramo Ad Amadio Serie D Lavastese E L'Aquila Passano in Coppa Sotto La testata Ancora Altri richiami Tempi moderni Ruota panoramica Il manuale Di funzionamento E in cinese Raiano Raiano Il sogno Bis per un detenuto Ammazzo come un cane Ammazzo come un cane Altro pestaggio Nese Per decidere il da farsi non è escluso che il sindaco possa incontrare anche questore e forze di polizia. La struttura sarà destinata a centro anziani e al luogo ricreativo per i giovani. L'assessore Di Stefano, decisione delicata, bisognerà avere la saggezza di capire bene come stanno le cose prima di agire. Poi ancora in basso, in una città che ha perso il suo tessuto sociale, è una realtà insieme a Casematte che rappresenta brandelli di socialità. E poi al centropagina, storico anniversario, grande festa sul Gran Sasso per i 130 anni del rifugio Garibaldi. La pagina della Marsica, serbatoio GPL difettoso, 50 evacuati, allarme ad ovindoli, il forte odore e la prensione hanno messo in allarme mezzo paese. Poi tutto è rientrato, sono intervenuti il sindaco Angelo Sante, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. I tecnici hanno riparato il guasto. Inizialmente si è sospettato che per un gesto automatico qualcuno avesse aperto la manopola del gas. Avanti ancora con la pagina di Chieti, omicidio stradale, maxi stop della patente, primo provvedimento della prefettura dopo la nuova legge. Nei guai l'uomo che causò la morte di due coniugi teatini. Lo schianto avvenne sull'asse, sospensione cautelare decisa senza attendere la sentenza. Lo prevede la normativa vigente. Oggi l'autopsia e poi i funerali di Ettore Dionisio, morto giovedì sul raccordo autostradale. Poi ancora a vasto organizzazione degli spettacoli tira nuovamente aria di bufera. Vincenzo Suriani, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, ha messo nel mirino l'evento Clou del Ferragosto. E poi a Lanciano, feste e trasporti pubblici, giorni di caos. Anche quest'anno l'arrivo degli eventi ripropone il problema della città blindata. Andiamo a chiudere con la pagina di Teramo. In 70.000 senza cure mediche, la CGL, disoccupazione, salari bassi e pensioni minime, quasi il 20% delle famiglie non può permettersi l'assistenza. I ticket sono troppo costosi. La lunghezza delle liste d'attesa indirizzano gli altri pazienti verso gli ambulatori privati. Il segretario Marcattili, la provincia di Teramo, tra le più colpite dal fenomeno per le difficoltà della sua economia. E poi ancora morto per una caduta franco sbrolla, pioniere dell'ambientalismo storico, dell'ambientalismo e storico. E poi a Giulianova, slot machine scassinate, un arresto, scoperto anche un deposito di bici rubate. I carabinieri diffondono le foto su Facebook. Ci fermiamo, anzi no, leggiamo anche questa pagina, visto che è il giorno del summit di Ventotene. Ricordo il messaggero che il summit arriva nel giorno di Silone, il vertice di oggi a 3 Renzi o Lan Merkel, proprio nella ricorrenza della morte del grande scrittore nel 1978 e nel 47 il pescinese europeista convinto scriveva Se non faremo l'Europa, la nostra generazione potrà considerarsi fallita. La declinazione europeista siloniana trovò una sistemazione ideologica e pragmatica in vari scritti. E ora possiamo fermarci e andiamo a fare il nostro break meteo con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo, a cui do il buongiorno. Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. E allora, temperature in leggero calo, mi è parso di sentire questa mattina uscendo di casa, mi confermi? Sì Andrea, stanno diminuendo le temperature, ma è prevista un'ulteriore e generale diminuzione delle temperature nelle prossime ore e ancora più nella giornata di martedì, perché stanno arrivando masse d'aria fresca provenienti dall'Europa centrale, che interesseranno gran parte le regioni centro-merigionali adriatiche. Quindi ci sarà una generale diminuzione delle temperature, ma nelle prossime ore saranno presenti ancora degli addensamenti sulla fascia orientale della nostra regione, con possibilità di rovesci localmente a carattere temporalesco, anche se ovviamente prevarranno le schiarite. I forti temporali hanno interessato l'adriatico centro-centrale, hanno l'ambito, la nostra regione, hanno favorito anche un rinforzo dei venti. Ma proprio i venti in rinforzo, il vento sarà una delle caratteristiche principali di questa nuova fase meteorologica, venti in rinforzo con motondoso in aumento tra oggi e domani. Quindi con le temperature andremo al di sotto delle medie stagionali per un paio di giorni, andremo poi da mercoledì, è prevista la rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana che garantirà condizioni di stabilità a partire da mercoledì, giovedì e ancora più nel prossimo fine settimana, con temperature in progressivo aumento, anche se non sarà il gran caldo, almeno per il momento, non arriverà il gran caldo perché insomma godremo ancora dei benefici dell'arrivo dell'aria fresca che spazzerà via i tassi di umidità al momento ancora su valori medio-alti. Quindi insomma una situazione di instabilità e si apre con l'instabilità la nuova settimana, ma poi da mercoledì e ancora più da giovedì è previsto un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Andrea. Giovanni, sei riduce da questa partita, quella di ieri del Pescara, le emozioni del tifoso condensate come? Diciamo che c'è un pizzico di rammarico, anche se all'inizio si pensa a affrontare il Napoli, la seconda forza del campionato, non sai come potrà andare la partita all'inizio, prima della gara. Poi quando vedi il Pescara giocare in una maniera perfetta, soprattutto nel primo tempo, mettere in difficoltà il Napoli e passare addirittura in vantaggio con due reti, insomma vedere poi rimontare la squadra partenopea che comunque è un'ottima formazione e ha delle qualità individuali notevoli, infatti Mertens, all'ingresso di Mertens, ha ovviamente dato un nuovo volto alla partita. Ma è chiaro che anche noi siamo stati complici della rimontra in Napoli, soprattutto nell'occasione del secondo gol, perché purtroppo c'è stato un infortunio, ma capita nel calcio che può capitare, adesso non vogliamo, nessuno vuole dare le colpe a coda, per carità, c'è stato quell'infortunio, ma comunque io credo che senza quell'infortunio difficilmente Napoli avrebbe riagguantato la partita, perché Pescara stava controllando abbastanza bene le offensive della corazzata partenopea. Insomma, va bene così, ottimo inizio di campionato, con una situazione del genere, con un gioco del genere, una squadra ben impostata dal mister Ode, sicuramente ci toglieremo tante soddisfazioni, soprattutto se arriveranno, e stanno arrivando, come ho sentito, gli ultimi aggiornamenti, i rinforzi tanto richiesti dal mister. Andrea. Eh sì, grazie, grazie Giovanni, speriamo che sia proprio come dici tu, ti auguro un buon lunedì e una buona settimana. Grazie Andrea, una buona settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a Giovanni De Palma, è il momento di fermarci, poi riprendiamo con i quotidiani sportivi, con le pagine sportive dei quotidiani locali, poi con i servizi e le interviste, in particolare quelli relativi alla gara tra Pescara e Napoli, ma torneremo anche all'ultimo amichevole stagionale del Teramo, che ha giocato sabato sera contro il Perugia di Cristian Bucchi. Di nuovo buongiorno, è la seconda parte di Mattino 6, che riprende con lo sport e con la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che apre così, bacca, spacca, deborre, stecca. Prima giornata con il ribaltone del milanesi, l'attaccante dal mercato alla tripletta al Torino, ma il novantasesimo Donnarumma, pupillo di sinistra, para il rigore del 3-3 a Belotti, Inter un disastro nero-azzurro, doppietta di Birsa per un bel Chievo, vince 2-0, Icardi mai pericolosi, il tecnico miglioreremo. Poi ancora al centro il commento di Luigi Garlando, l'avvio cinese fra riso e pianto sotto la testata, grazie Italia, Rio 2016, il Bratile ci batte 3-0 davanti a Neymar, l'oro del volley resta tabù, Siamisso lotta di bronzo, ma chiudiamo col bilancio positivo. L'analisi di Fausto Narducci, come a Londra, anzi meglio, sono 28 le medaglie collezionate dall'Italia a Rio, 8 ori, 12 argenti e 8 bronzi. Qui vediamo appunto la ripartizione delle medaglie dell'Italia. Tornando al calcio, l'unico pari, scatto Pescara ma entra Mertens e con due botte salva il Napoli. Il personaggio, il peso di Higuain, io grasso, ditelo pure, così segno. Gol e rimonte, l'Atalanta si butta, passa la Lazio 4-3, bene le genovesi. E poi per la MotoGP dopo 20 anni vale ancora sul podio, ma il re è Crutchlow. Andiamo a vedere le pagine all'interno, pagina 2-3, Milan il mattino a loro in bacca, Toro Sprecone, Carlo Stregolla la prima, il 96esimo, Donnarumma para a Belotti, rigore del 3-3. E poi ci sono le dediche del centroavanti colombiano, gol e palla per mio figlio, deciso con la famiglia, resto si torna in Europa. E poi la giornataccia dell'Inter, Super Birsa, disastro Inter per l'italianista De Berre, resta molto da fare. E c'è la notte di Walter, inteso come Birsa, e vendetta indiavolata, l'ex milanista infila la prima, doppietta in A. E poi ancora, la partita di ieri dell'Adriatico Cornacchia, il Napoli alle corde, Mertens lo rianima, però che pescara, gol a Bruzzesi di Benagli e Caprari, poi entra il Belga, in tre minuti fa pari, Giacomelli si rimangia, un rigore dato. Le cifre, zero, o meglio la cifra, zero, e vittoria di Sarri in carriera alla prima giornata in Serie A, un tabù confermato dal pareggio di ieri. In precedenza Sarri aveva perso a Udine, due a zero nel 2014, alla guida dell'Empoli. L'anno scorso a Sassuolo, o meglio a Reggio contro il Sassuolo, due a uno. Ci sono le valutazioni, sette e mezzo, migliori in campo per il Pescara, Ahmad Ben Ali, e poi vediamo le sufficienze in difesa, però il cinque a Coda, per quell'erroraccio, che ha propiziato il gol del pareggio del Napoli, sette per Biraghi, poi un cinque e mezzo per Cristante, cinque e mezzo per Manai, per il resto tante sufficienze, in particolare sei e mezzo per Verre e Caprari. Nel Napoli ovviamente il migliore è il salvatore della patria, Dries Mertens, sette e mezzo anche per lui, voto quattro per Coulibaly, il peggiore in campo, nelle valutazioni dei colleghi della Gazzetta. L'amarezza di Amsic, brutto l'avvio, ma la scelta dell'arbitro non l'ho capita. E poi ancora, tornando sulla pagina della Gazzetta, o meglio sulle due pagine, le parole di Oddo, felice, noi sempre coraggiosi, preso Pepe. E poi un'altra analisi che viene fatta sulla partita con il protagonista, il personaggio che è Mertens, l'eterno panchina, rossegna e sfida Sarri, e ora in signe, trema. Diamo uno sguardo anche alle pagine sulle Olimpiadi che hanno chiuso i battenti a Rio. Peccato Italia, loro resta un tabù, maledizione finale, Brasile tricampione, azzurri da applausi, tre set combattuti, ma risultato giusto. Bruno, il migliore, la nazionale sconfitta per la terza volta nella storia. E poi, il personaggio, è lo Zari, Van Zaitsev, squadra di ragazzi con un grande cuore, ci riproveremo a Tokyo. E poi ancora, Maracanasinho, la sconfitta del volley, non rovina l'emozione. Avanti ancora, podio amaro, bronzo, sciamisso, ma una chiamata molto dubbia, gli toglie la finale. L'Italo-Cubano in lacrime, con queste giurie, bisogna dominare, altrimenti, puntini, puntini, e ci vediamo a Tokyo. E poi, il bilancio, Italia promossa, abbonati all'anno posto, i giochi azzurri meglio che a Londra, tre argenti in più. Ci sono le parole del presidente del CONI, Malago a testa alta, volevo, loro del volley, il presidente promuove gli azzurri, siamo stati bravi, Roma 2024, peccato l'assenza del comune, ma al CIO, è piaciuta, casa Italia. E poi ancora, per la MotoGP, sei forte papà, impresa a Crutchlow, Rossi eterno, è secondo. Valentino, venti anni dopo, è ancora su quel podio, mi mancava da troppo. Mark, io una formichina da mondiale, ieri terzo posto, per il leader della classifica generale, della MotoGP. E dunque, con il bilancio, e con i risultati, del GP di Repubblica Ceca, finiamo con la Gazzetta dello Sport, andiamo a vedere, anche la prima pagina del Corriere, dello Sport, che apre così, Inter al Buio. Ecco, un attimo che, andiamo proprio sulla, prima pagina del Corriere, Inter al Buio, la prima è un disastro, per De Beers, che lezione dal Chievo, 2 a 0, i nerazzurri, senza forza, neide, puniti, da una doppietta di Birsa, e poi ancora, ciclone, bacca, e super, Mertens, sotto la testata, la Juve, pazza di Higuain, oggi in contraquadrado, Roma, pronto il contratto, per Spalletti, e poi, l'opinione di Alessandro Vocalelli, la partenza, premia i tecnici italiani, in basso, giochi, volle di stregato, ma l'Italia è tra i grandi, loro al Brasile, nella lotta a Sciamisso, terzo, a Rio si chiude, azzurri, noni, nel medagliere, poi Valentino Show, secondo a Brno, e nel Mondiale, che rimontona, poi ancora, entriamo all'interno, subito pagina 2, pagina 3, su Pescara Napoli, solo un pari, Mago Mertens, salva il Napoli, grande primo tempo del Pescara, in rete con Benali e Caprari, poi entra il Belga, e firma una doppietta, vediamo qui in alto, la Moviola, fallo di Albiol, su Bizzarri, ecco perché il rigore, è stato revocato, nella ripresa, Sarri, c'entra i cambi, gli azzurri sfiorano anche il sorpasso, con un tiro di Milik, per Milik, ottimo esordio, Valdifiori a Sprazi, Reina, ok, Gabbiadini e Insigne, in serata notra, i biancazzuri, verre da applausi, buona prestazione di Brugman e Bizzarri, in effetti nel Pescara possiamo vedere che fioccano i sette, per Benali, verre, Caprari, anche per il tecnico Oddo, la Gazzetta aveva messo l'insufficienza a Cristante, che sul Corriere invece prende 6,5, il peggiore è Coda, 4,5 nel Napoli, 7,5 per Mertens, chiaramente il migliore, il peggiore è Insigne, 4,5, voto 5 invece per Giacomelli, per via dell'episodio del rigore, prima concesso a Napoli e poi revocato. Possiamo andare su pagina 3, con le parole di Amsic, punto che vale ora avanti tutta, e poi soprattutto con le parole di Massimo Oddo, il Pari è bene, ma volevamo la vittoria, avevamo studiato bene il Napoli, loro sono piatti, e noi con il falso 9 ci abbiamo provato. Ora andiamo a vedere i quotidiani locali, partiamo dal centro, e vediamo appunto come il centro tratta questo pareggio tra Pescara e Napoli. Buona la prima, Benali e Caprari fanno sognare, poi la reazione dei partenopei che realizzano il 2-2, grazie a un liscio di coda, giallo per un rigore e non rigore nel finale. Il Pescara sfiora il grande colpo, Mertens la ciuffa, primo tempo perfetto dei biancazzurri amanti 2-0, nella ripresa entra il Belga e regala il Pari al Napoli. Poi ancora, Sebastiani assolve coda, certi errori possono capitare, il Presidente salta la prova della squadra, ha dato il 150%, e poi c'è l'accordo con Simone Pepe, che ieri era allo stadio di Rettigo Cornacchia ad assistere alla partita, e Baebec è già in città. E poi in sala stampa le parole di Massimo Oddo, si poteva vincere, ce la giochiamo con tutti, l'allenatore è soddisfatto, ci danno per retrocessi e ribalteremo i pronostici. Siamo una squadra giovane ed è normale soffrire, ma la prestazione è convincente. Poi ancora le parole di Verre, siamo contenti, avevo segnato un debutto così, e quelle di Bizzarri, il rigore revocato perché c'era un fallo su di me. E poi c'è quest'altro titolo, Gran Festa in uno stadio da ripensare, prime crepe organizzative nell'impianto, che non è più adeguato ai grandi eventi. Ci sono anche le pagelle, Ben Ali è da applausi, Verre e Caprari in grande evidenza, Coda regala il 2 a 2. Tanti voti alti, c'è però il 4,5 per Andrea Coda, per quello svarione che tra poco vedremo nel servizio che ha profiziato il pareggio del Napoli, 7 per Brugman, 7,5 per Ben Ali, 7 per Caprari, poi una leggera insufficienza anche per Zuparic, 5,5, Zuparic che era entrato al posto di Coda, che è uscito infortunato, voto 7 anche per Valerio Verre, assistman in occasione del primo gol di Ben Ali. Prima di vedere il messaggero, andiamo a rivivere le fasi salienti della partita, con il servizio e poi ascoltiamo le parole del tecnico Oddo, del presidente Sebastiani. Stecca il Napoli all'esordio allo stadio Adriatico di fronte ad un Pescara che alla fine può anche recriminare per due punti persi. Il doppio vantaggio con cui gli abruzzesi hanno chiuso il primo tempo non è bastato per portare a casa un successo che sarebbe stato clamoroso ma per nulla immeritato per quello che si era visto in campo nella prima ora di gioco. Per la squadra di Maurizio Sarri, orfana di Higuain, un avvio non esaltante con Mertens che nella ripresa evita una clamorosa sconfitta. Si comincia dinanzi a spalti quasi cremiti, qualche vuoto solo nella curva ospite. In campo il Pescara è lo stesso della gara con il Frosinone, con Caprari unica punta di ruolo e Coda Ghiomber al centro della difesa. Gli azzurri giocano come previsto con Gabbiadini punta centrale e Milik in panchina. Sul fronte offensivo c'è anche Lorenzo Insigne, ex Biancazzurro, proprio come Sarri. L'avvio è come da copione di marca partenopea. I ragazzi di Massimo Oddo prendono coraggio e così al nono Benalì sul filo del fuorigioco riceve palla da verra e davanti a Reina non sbaglia mettendo il pallone in rete per il meritato vantaggio. I padroni di casa non mollano e qualche istante dopo Ebiraghi a chiamare ad una parata strepitosa l'estremo campano. Sarri si dispera dalla panchina con i suoi ragazzi che si scuotono e che all'undicesimo si rendono nuovamente pericolosi con Callejon che sfiora il pari. I campani che non si aspettavano questo avvio degli abruzzesi barcollano Amsic cerca di prendere per mano la squadra ma i reparti appaiono scollati. I partenopei fanno poco e si rivedono però al ventiquattresimo con un tiro di poco alto di Valdifiori dai 30 metri ma il Pescara disegnato dal tecnico Biancazzurro è più che mai cinico e così al trentacinquesimo arriva il raddoppio con Zampano che si invola sulla destra e mette a centro area per Caprari che fa 2-0 facendo esplodere la gioia dei quasi 20.000 tifosi presenti sugli spalti. La ripresa si apre con il Napoli all'assalto e con Sarri che manda all'ottavo minuto in campo Milik e Mertens per Gabbiadini ed Insigne cambia così l'attacco e così cambia anche il punteggio che vede segnare al quindicesimo proprio Mertens il gol del 2-1. Passano pochi minuti al diciottesimo Mertens approfitta di una bambola di coda segnando il gol del 2-2 il Napoli continua a premere ma non concretizza le azioni il finale di gara vede così il copione già scritto con gli ultimi attacchi degli ospiti ed il Pescara a difendere il meritato 2-2. Dico sempre che a prescindere non firmo mai per un pareggio perché il calcio è uno sport in uno sport non si va in campo per pareggiare o per perdere si va per vincere quindi una squadra deve fare di tutto per fare il massimo e per poter raggiungere una vittoria poi a volte ci si riesce a volte no oggi ci abbiamo provato l'abbiamo fatto molto bene nel primo tempo mettendo in grande difficoltà il Napoli giocando con coraggio quella che è sempre stata la nostra prerogativa poi nel secondo tempo la prima cosa che ho detto ai ragazzi fra il primo e il secondo tempo non tiriamoci indietro continuiamo a fare la partita però poi ahimè ci sono anche le altre squadre davanti oggi l'altra squadra è il Napoli non potevamo avere una condizione del 100% ovviamente perché siamo inizio campionato la gamba è invenuta un po' meno la tensione nervosa di tanti dei miei ragazzi era comprensibile molti all'esodio in Serie A quindi un grande spreco di energie e la qualità del Napoli ha fatto sì che ci siamo abbassati ma è inevitabile ci mancherebbe saremo stati dei fenomeni per fare 90 minuti così però ci tengo a dire che ci siamo abbassati sì ma ci siamo difesi con un grandissimo ordine lo abbiamo fatto molto molto bene abbiamo sbagliato nel primo gol dove c'è stato un errore poca aggressività mentre nel secondo è un errore che ci sta nel calcio è un liscio è venuto fuori quello è rammarico però per il resto ricordo un'altra parata di di Bizzarri ma abbiamo contenuto molto bene una squadra che è molto forte soddisfatto direi di questa partita un grande pescara per 60 minuti assolutamente soddisfatto come non essere soddisfatto di una prova così importante da parte di questi ragazzi che hanno fatto veramente una grandissima partita al cospetto di una grandissima squadra prima della partita avevo detto al mister che mi giocavo il 3 a 0 per noi quindi avevo sbagliato di poco perché potevamo farlo il 3 a 0 già nel primo tempo però al di là delle battute o delle cose delle sensazioni personali una partita così penso che sia da incorniciare perché è fatta da un gruppo di ragazzotti che al cospetto di una squadra che è arrivata a seconda in campionato che si giocherà alla Champions facendo veramente i 60 minuti anche 65 ad altissimi livelli Simone Pepe è un nuovo giocatore del Pescara quindi è venuto a Pescara oggi pomeriggio abbiamo fatto il contratto domani farà le visite che saranno la formalità e poi si aggregerà la squadra oggi è arrivato anche buyback da Parigi quindi diciamo che siamo già a buon punto perché poi noi parliamo sempre di quelli che mancano ma a vedere una squadra così poi dobbiamo pure capire dove facciamo giocare quelli che arrivano perché noi giocano in 11 e abbiamo anche qualche giocatore fuori ancora e quindi abbiamo Muric che è arrivato che in questa settimana verrà tesserato abbiamo già tanti giocatori dobbiamo fare quelli che servono non per portare il numero e Grassi ne ha parlato con il Napoli oggi? Ma Grassi ne ho parlato già qualche giorno fa su Grassi ci sono tante attenzioni di squadre anche più importanti del Pescara e il giocatore poi deciderà dove andare vedete lo spot di questa sera serve anche a questo una partita così come questa se oggi avessimo fatto una partita prendendo 5 gol dal Napoli probabilmente anche i giocatori che devono venire a Pescara ci pensano quattro volte invece vedere una squadra così che gioca molto bene che ha giocato ad armi pari con il Napoli probabilmente fa venire l'acquolina in bocca anche a chi deve venirci a Pescara e andiamo sul messaggero Pescara che esordio fermato il Napoli con un primo tempo straordinario è una ripresa di sofferenza Benarie e Caprari fanno sognare l'Adriatico nella ripresa la doppietta di Mertens salva Sarri i biancazzurri hanno superato bene l'impatto con la proteste ospiti per un rigore dato e poi revocato non ci sono insufficienze nelle valutazioni del messaggero voto 6 anche per Coda per il quale insomma si parla di un ottimo primo tempo prima appunto dell'errore sul 2 a 2 per il resto voti importanti come il 7 a Brugman a Verre e a Caprari e il 7 e mezzo a Benarie il migliore in campo nel Pescara grande partita dice Massimo Oddo abbiamo dimostrato di meritare la Bizzarri fallo su di me il rigore non c'era e le parole di Sebastiani questo gioco è il nostro spot il centravanti di grossa stazza non ci serve Baebec il mio amico Verratti mi ha detto un gran bene di questa piazza dunque primi virgolettati sul neoattaccante del Pescara a proposito di neoattaccante un altro giocatore in arrivo Simone Pepe trattativa Lampo ha firmato in serata con i Biancazzurri l'ex interista Caldirola il nome nuovo per la difesa abruzzese il centrale vorrebbe lasciare il Verder il Delfino ci proverà ulteriori approfondimenti questa sera con il ritorno della trasmissione replay di Enrico Rocchi a partire dalle ore 21 sulla nostra emittente proseguiamo con la rassegna stampa parliamo di Lega Pro sempre sul messaggero Teramo ultimatum di 48 ore ad Amadio il mister Zauli si è spazientito mercoledì la squadra si presenta chi salirà su quel palco ci sarà durante il prossimo campionato Vastola in Pol se sarà divorzio oggi la ripresa degli allenamenti sabato il debutto a Lumezzane e allora andiamo a vedere il servizio relativo all'ultima amichevole giocata dal Teramo sabato sera contro il Perugia vittoria nel finale per la squadra di Bucchi per 2 a 1 finisce con una sconfitta di misura condita dal giallo del probabile fuori gioco finale il precampionato del Teramo all'ultima uscita col Perugia prima dell'esordio di sabato prossimo al Saleri di Lumezzane ma i meccanismi della squadra di Zauli specie nel primo tempo con una formazione che assomiglia tantissimo a quella titolare sembrano già un patrimonio sul quale investire nel duro torneo che attende i Biancorossi con Amadio ormai ai margini del progetto e con la valigia pronta in direzione latina il ruolo del metronomo passa nelle mani di Davide Peterman Ilari dopo una preparazione a singhiozzo torna dal primo minuto e lascia un'ottima impressione mentre l'attacco veloce Sansovini Petrella ispirati da Carraro mette in grosse ambasce la retroguardia Umbra ma al di là della sicurezza rappresentata dalla cerniera centrale di difesa Caidi Speranza sono gli esterni la migliore sorpresa di questo inizio di stagione Scipioni sembra tornato sui livelli di due anni fa Dorazio ha una marcia in più rispetto a tutti chiude riparte si propone e per la seconda volta nella preseason segna lo fa al ventunesimo raccogliendo la corta respinta di Elezai sul piazzato di Peterman primo tempo col brivido finale perché Mancini tocca duro Petrella e il folletto di Pratola è costretto a lasciare il campo claudicante nella ripresa entra Croce al suo posto la punta si fa vedere e Sansovini è quasi sempre presente nelle azioni pericolose ma il Perugia sale di tono e si vede specie con Zebli che prende in mano la mediana prendendo le misure a Peterman che al sesso un tunesimo di fatto gli regala evitando a tutti i costi il rinvio il pallone dell'uno a uno la squadra di Bucchi è diversa dalla prima frazione il Teramo cambia radicalmente l'undici iniziale anche se uno dei neo entrati Placido costringe al sessantanovesimo imparato al fallo da rigore dal dischetto però Elezai ipnotizza il destro di Carraro col risultato che rimane invariato nonostante le squadre inizino a sentire la stanchezza e le occasioni non manchino per portare a casa l'amichevole ci provano Didiba e Dorazio a ridosso della mezz'ora di frazione mentre Di Carmine lasciato spesso isolato chiama in causa Rossi prima del rush finale che vede Fratangelo seminare il panico nella retroguardia Umbra e con Croce che pecca in sicurezza e manda alle ortiche l'occasione del successo che invece non si lascia scappare al novantesimo proprio Di Carmine col Teramo che protesta forse per una posizione di fuorigioco non rilevata conta poco quasi nulla per entrambi i biancorossi di Zauli chiudono il precampionato con uno stop che però lascia in dote la sensazione palpabile che la strada intrapreda sia proprio quella giusta penso che abbiamo fatto una buona partita con una buona intensità abbiamo cercato di imporre il nostro gioco è stata una partita dove l'aspetto principale era quello di curare bene il possesso palla di curare già un pizzico di aggressività che ci servirà per forza in campionato sono rammaricato perché comunque queste partite servono anche per cominciare a cercare di ottenere il risultato quindi quando non arriva anche in questa maniera comunque dà fastidio pur che sia un amichevole a posto abbiamo finito il nostro periodo di preparazione mi auguro che da lunedì anche l'infortunio di Petrella possa essere lieve e ricominciare tutti da lunedì per cominciare questa avventura nella partita dei Lumezzani è sul centro sabato debutta Lumezzani Zauli ora ma Dio deve decidersi entro domani attendo una risposta mercoledì presentazione della squadra a Piazza Martiri serie di ieri giornata di primo turno di Coppa Italia Vastese piega il Pineto e sfida il San Nicolo la formazione ospite avanti per prima poi il ribaltone bianco rosso le parole del tecnico Vastese Colavitto dobbiamo migliorarci saremo pronti per il 4 settembre ammazza l'orso mai sofferto vince anche l'Aquila attraverso i calci di rigore l'Aquila primo acuto ai rigori ora il derby i rosso e blu battono il Monterosi domenica c'è l'Avezzano ecco una foto di Massimo Ganci in gol al quarto d'ora della ripresa il suo primo sigillo stagionale l'ex bomber del Pescara San Nicolò fa le prove al Bonolis De Giglio in evidenza Biancazzurri in palla dopo l'amichevole con il Pescara primavera vinta 3 a 1 verso la Coppa Biancoverdi parliamo di Avezzano poche tessere vendute Gazebo a piazza Risorgimento per la campagna abbonamenti e poi il Chieti che dovrebbe riuscire finalmente a radunarsi ma è un cantiere alle 15 primo allenamento all'Angelini il Sogno e il bomber La Cava ex Rieti poi per il basket le abruzzesi di A2 e di B Sharks un nuovo roster per Di Paolo Antonio reparto esterni ben assortito con Fultz Smith Briggs e Radonic e poi ancora per quanto riguarda la Proger Chieti il primo obiettivo è salvarsi Coach Galli dalla carica esordio il 2 ottobre con la fortitudo e poi per le squadre di serie B Teramo 1960 vuole stupire anche tra i cadetti mix di volti nuovi e vecchia guardia nella società del presidente Ruscitti che punta a non retrocedere Campli l'arma in più e Simone Gatti in Paloni ora abbiamo una società solida e possiamo fare bene maglietta celebrativa per i 60 anni della squadra e poi in 200 all'iper per la Wirortone allenamenti al parasporto in condominio con l'impavide all'argentino Svoboda di Carmine Castelluccia e Mlinar i volti nuovi e poi Amatori riparte dall'esperto Raiola l'inossidabile capitano Faradacchioccia a una nidiata di giovani promettenti e chiudiamo sempre sul centro con le parole della medaglia d'argento a Rio nel beach volley il gigante di Ortona Nicolai mi sto svegliando dal sogno d'argento tutti pazzi per Paolo venerdì la festa in città caccia al selfie e all'autografo ho dormito poco a volte anche due o tre ore a notte ringrazio i miei concittadini per il tifo la palla sul 19 pari del primo set della finale ecco com'è andata dunque intervista con questa foto di Paolo Nicolai con il Belvedere appunto di Ortona il porto sullo sfondo ci fermiamo qui con la rassegna stampa di mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti con il TG ore 19 pardon ore 14 ore 19 e ore 23 e vi ricordo ancora le ore 21 la prima puntata stagionale di replay di Enrico Rocchi per parlare di questo bel debutto in Serie A del Pescara grazie a Gianni D'Areo in regia e grazie a voi che ci avete seguito in questa mattinata buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.